In occasione della giornata mondiale del libro sarà esposto eccezionalmente dal 23 aprile nella sala 14 dell'appartamento storico del Palazzo Reale di Napoli uno dei due leggi rotanti che appartengono alla collezione della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. L'esemplare è stato per l'occasione restaurato e rappresenta una vera e propria innovazione settecentesca, assai di moda, voluta dalla regina Maria Carolina d'Asburgo. Si tratta di una macchina da lettura, di gusto neoclassico che richiama gli ingegnosi leggi diffusi già in epoca medievale e in particolare nelle biblioteche monastiche dell'Europa centrale. La regina Maria Carolina fece costruire la copia di preziosi mobili di lettura nel 1792-1794 da Giovanni Uldrich, un noto ebanista attivo a Napoli. A parlarci dell'iniziativa Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli. L'abbiamo restaurato proprio perché volevamo far capire meglio il funzionamento che non era chiaro ai visitatori. Allora l'oggetto è appartenuto come un suo gemello, un altro mobile pressoché identico a Maria Carolina d'Austria che lo teneva a Caserta dove era la sua biblioteca. Poi nell'Ottocento con l'Unità d'Italia è finita la Biblioteca Nazionale, infatti tutti e due appartengono al patrimonio della biblioteca. Questo è esposto nel percorso di visita di Palazzo Reale e quindi abbiamo approfittato dell'occasione della giornata internazionale del libro che è domani per fare questo restauro soprattutto finalizzato a farne capire il funzionamento, quindi smontaggio dei piani che potevano ruotare e quindi i nostri restauratori del laboratorio di restauro hanno rimesso in sesto i piani, pulito il legno e le parti metalliche per far vedere questo funzionamento che consentiva appunto una lettura alternata di più libri contemporaneamente. La Biblioteca Nazionale di Napoli oggi conserva la biblioteca privata di Maria Carolina insieme ad alcuni preziosi mobili della biblioteca e documenta attraverso le sue collezioni l'ambiente culturale dell'epoca. che vide costruirsi intorno alla regina un gruppo di donne e uomini di idee moderne ed avanzate espressione della grande cultura europea di quel tempo. Così Lucia Marinelli, vice direttrice della Biblioteca Vittoria Emanuele III. Possediamo 8.000 volumi appartenuti sicuramente a Maria Carolina riconoscibili dal tipo di copertina che ancora oggi conservano, che è una copertina in cartone azzurrino che veniva messa prima che venissero mandati direttamente dall'Austria alla regina, che amava la letteratura del suo paese. Lei era austriaca, arrivata a Napoli a 16 anni con il matrimonio con Ferdinando IV, ma è stata legatissima alla propria cultura e quindi faceva in modo che arrivassero tutte le novità editoriali del suo paese a Napoli. Era una giovane donna, quindi leggeva del fine Settecento, inizio Ottocento, leggeva essenzialmente letteratura narrativa, quindi romanzi più o meno diciamo ovviamente legati alla cultura dell'epoca, quindi pre-romantica, ma anche era una donna colta in generale, leggeva molta saggistica, addirittura strategia e politica perché aveva anche un suo interesse diciamo alla vita politica.